La rinuncia a visite o ad accertamenti specialistici per problemi di liste di attesa eccessivamente lunghe riguarda circa 2 milioni di persone, il 3,3% dell'intera popolazione. Lo denuncia uno studio della Fondazione Gimbe, secondo cui la gestione degli appuntamenti sarebbe poco limpida. Sono solo 5, infatti, le amministrazioni regionali che rendono pubblici i dati sui tempi di attesa in modalità di prenotazione Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano. La maglia nera spetta invece a Campania, Molise e Toscana. Secondo la stessa indagine, il 69% del totale delle ASL non hanno adottato un piano per smaltire le liste d'attesa. Quello del Gimbe è un dato che noi avevamo denunciato già qualche anno fa, cioè che le ASL non pubblichino sul loro sito le liste di attesa, i tempi di attesa come previsto dalle norme. Ora è entrato in vigore il nuovo piano nazionale delle liste d'attesa, quindi c'è tempo fino al 21 aprile per rimediare a questa situazione, perché i cittadini hanno bisogno di avere informazioni chiare e poter scegliere in quale struttura andarsi a curare anche in base appunto ai tempi di attesa. Ricordiamo sempre che il CUP, che è il centro unico di prenotazione, dovrebbe essere in possesso di queste informazioni. Dico dovrebbe perché purtroppo molte liste di prenotazione restano nelle mani delle caposala e dei primari. Non tutte le regioni, rende noto sempre la fondazione Gimbe, forniscono informazioni precise sulle 43 prestazioni principali tra visite specialistiche e accertamenti, come invece richiesto dal piano nazionale di governo. Così per gli assistiti diventa sempre più complicato capire dove conviene prenotare e in caso rivolgersi altrove.